Perché da quando si sono sciolti, i migliori sulla piazza siamo noi, dico sempre, a parte altri gruppi, a parte altri gruppi, dico, a parte altri, dico, tra quelli del low profile, a quelli tipo, vabbè anche i taburiti non sono ci zaccano il culo, gli alma mediterranea hanno smesso? Ah no, ho smesso? È una questione di marketing, no, no, sono buono. Sì, questa canzone è dei Furra Tapignata, si titolava Scriu e Ago Agantu. Non è un motivo per ascoltare quel brano. Se qualcuno ha un cellulare e vuole filmare per poi mandarlo alle lepitori sarebbe una cosa carina che sennò non ci crede che l'abbiamo fatta. Stiamo andando io a te, adesso. Scriu e Ago Agantu Tutto sugli minchapitata Isogusuma mostratè su igasa Mimintanta Scriu e Ago Agantu Assumango un gammeni Beni, beni, vongamenti Ti no, 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 no No, no, no Mi rischia lasciù Ha marun дальше I do in the room No, no, no E, no E dern publishers Hessik сте B bas B Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.